Ultime notizie su pagamenti, bonus e aumenti per pensioni e invalidità. Ciao a tutti, benvenuti su Speedy News. Oggi vi porto un aggiornamento importante su INPS, rielaborazioni in corso per l'assegno di inclusione, novità su supporto formazione lavoro e assegno unico, e aumenti per le pensioni. Rimanete con noi fino alla fine, perché parleremo anche del bonus fino a 1.000 euro per i genitori e di un incentivo di 12.000 euro per le aziende. E, come sempre, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna news sui vostri diritti. Partiamo con le ultime novità sull'assegno di inclusione. Molti percettori sono ancora in attesa dei pagamenti di ottobre, e INPS ha confermato che alcune domande decadute per errore saranno rielaborate. Questo problema era già stato segnalato ad agosto, con certificati di invalidità e residenze non omologati. INPS sta risolvendo e prevede nuove lavorazioni a breve. Speriamo che tutto si sistemi per chi attende ancora i pagamenti. Anche i pagamenti per assegno unico e supporto formazione lavoro continuano per chi ha subito variazioni. Inoltre, una conferma importante. Dalla legge di bilancio arriva la notizia che l'assegno unico non farà reddito nell'Isee, permettendo l'accesso a nuovi bonus per il 225. Questo significa più possibilità di beneficiare di agevolazioni per chi ne ha diritto. Parliamo ora dei bonus. È in arrivo un bonus da 1.000 euro per i genitori, mentre le pensioni vedono un aumento graduale che ha scatenato non poche polemiche. Per i lavoratori disabili è attivo anche un incentivo di 12.000 euro per le aziende che assumono. Attenzione! Le domande per questo bonus scadono il 31 ottobre 2024. Queste erano le novità principali. Ricordate di iscrivervi a Speedy News per non perdervi gli aggiornamenti su bonus e pagamenti. Lasciate un like se avete trovato utile questo video e attivate la campanella per restare informati su tutto ciò che riguarda i vostri diritti. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo aggiornamento!